Finisce qui, la conferenza stampa di Montella. Su duello Borgia Valero e Biglia. Ci sta come duello, sono due pensatori. Sul preparatore atletico. Lo abbiamo individuato, bisogna aspettarlo. Sulla società. Sento la fiducia della società, Mirabelli è sempre qui, Fassone l'ho visto giovedì. Mi lasciano abbastanza spazio e sento la loro vicinanza. Su pregio e difetto del Milan. Dobbiamo avere la forza mentale di reagire alle prime difficoltà. Sul derby da vincere anche giocando male. Abbiamo preso una direzione netta, c'è stata continuità nella prestazione, ha tratto anche un gioco armonioso con la Roma, dobbiamo riportarlo a tutte le partite. Su Siva. Ha fatto nove gol su dieci in nazionale, appena arrivato era solo bello ora è diventato più pratico, pensa più al gol. Più sgamato per il calcio italian, stiamo facendo anche un lavoro personalizzato su di lui per farlo crescere ancora. Grazie. Grazie a tutti.